La Fiera dell'Antiquariato lascia il prato e torna nel suo palcoscenico naturale le vie del centro storico Aretino. Dopo il lockdown e dopo i due turni di trasferta nell'area verde, gli espositori infatti sono pronti a tornare ad affollare le vie e le piazze della città, nel classico percorso della manifestazione, come annunciato dal sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli. Era il mio obiettivo arrivare a questo risultato, ha detto, fortemente auspicato da tutti e dietro al quale sta il lavoro capillare svolto dall'amministrazione per rispondere sia alle esigenze degli espositori e degli antiquari, sia a quelli della normativa anti-Covid. La Fiera, quindi a partire dall'edizione di agosto, tornerà nel centro storico con una nuova disposizione dei banchi condivisa con gli operatori. Apprezzamenti arrivano anche da parte delle associazioni di categoria dei commercianti. È la notizia che aspettavamo da tempo, ha commentato Anna Lapini, presidente di Confcommercio. In un momento di profonda crisi, la Fiera tornerà a dar fiato anche a bar e ristoranti, catalizzando cittadini e turisti per le strade e le piazze. Vogliamo anche rivolgere un pensiero agli antiquari, vera anima della Fiera. Assieme a loro ripartiremo più forti di prima. Soddisfatta anche la Confesercenti, avevamo sollecitato questa scelta fin dall'inizio, ha sottolineato il direttore Mario Checaglini, consapevole che la forza della Fiera sia rappresentata dai protagonisti, ma anche dal contesto in cui essa opera dal 1968. Apprezziamo quindi l'insistenza e la determinazione dell'amministrazione comunale che si è adoperata per farsi da tramite con il prefetto per far prevalere la linea del ritorno della Fiera Antiquaria nelle strade e nelle piazze del centro storico.